Si dimette l'assessore Giulia Corradi, torna in consiglio Antonio Bobboni, primo dei non eletti. Manifestazione all'Alberini che si è svolta una settimana fa, dibattito tra cittadini, gestore e sindaco. Spartan Race, un grande evento ad Orte, ce ne parla il consigliere delegato Silvia Lallini. Angelo Giuliani di Orte Città Nuova è con noi in studio. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. La prima notizia del nostro settimanale riguarda la pagina politica. Si è dimesso l'assessore Giulia Corradi, da quanto abbiamo saputo, i motivi di questa scelta sono dovuti esclusivamente a cause di lavoro. Giulia Corradi lascia anche il ruolo di consigliere. Il primo dei non eletti nella lista del quadrifoglio è Antonio Bobboni, che torna così a sedersi nei banchi di maggioranza di Palazzo Nuzzi. Le deleghe dell'assessore Corradi saranno assegnate nei prossimi giorni. Nel frattempo si sta esaminando la legge sulle quote rosa, sulle modalità che debbono essere adottate in questi casi. Dovrebbe essere comunque una donna a subentrare a Giulia Corradi. Le possibilità sono Selena della Melina, Silvia Lallini o Roberta Savoia. Si fa caldo il clima intorno al cinema Alberini diventato oggetto di discussione in questi ultimi tempi. La vicenda, portata in risalto anche nel discorso di fine anno del sindaco Polo, ha visto lo svolgersi sabato scorso di una manifestazione dove erano presenti forze politiche, associazioni e cittadini. Il gestore ha spiegato le sue ragioni controbattendo quanto detto dal sindaco pochi giorni prima. Il sindaco che all'improvviso è apparso sulla scena e ha ribadito le ragioni espresse precedentemente. Il dibattito, volto più che altro ad una ricostruzione dei fatti, è stato arricchito anche da interventi dei cittadini. Morale della favola, ognuno è rimasto delle sue opinioni. Si parla ora di varie iniziative per far riprendere le proiezioni, ma finché non si troverà una soluzione concorde, le tensioni non si attenueranno. Tra i presenti, anche Costruiamo il domani, abbiamo sentito i coordinatori Edoardo Basili e Carlo Nevi. Noi siamo stati invitati a questa manifestazione come semplici cittadini, poi adesso ci ritroviamo anche come coordiniamo il domani perché abbiamo sentito il dovere, l'obbligo di dare un sostegno a un cittadino che sta in gravi difficoltà. Questo è il discorso. L'unica cosa che noi vorremmo tramite un movimento di gente, un movimento civico, sostenere questa cosa e cercare di salvare, impegnandoci in qualche modo con delle idee, con mille cose per poter salvare il cinema per orte, che secondo noi è una cosa culturale molto importante. E poi anche salvaguardare il posto del lavoro del gestore. Ecco, quindi ci sono altre iniziative, un po' stasera diciamo che è il via per una serie di iniziative che sensibilizzino questo tema? Noi abbiamo già dato il via, non proprio iniziative, con dei comunicati che abbiamo fatto, ponendo l'attenzione sul ruolo che ha il cinema per orte, la sua storia, la cultura che portava, perché non è soltanto spettacolo ma è anche cultura. È chiaro che siamo stati invitati a questa manifestazione che il gestore ha ritenuto correttamente, penso di dover fare, di poter dire le sue cose. Noi gli siamo vicini, lo eravamo prima, ora a maggior ragione, quindi attiveremo tutto quello che è nel nostro possibilità per poter lasciare che il cinema orte arresti e che l'amico, il concittadino trovi la giusta collocazione in quello che per lui è stata tutta la sua vita. Ma che cosa vi proponete di fare in modo tangibile, oltre a esprimere la solidarietà che avete già detto di voler esprimere verso il gestore? Noi ci auspichiamo di poter dar vita a un movimento, diciamo, come possiamo definirlo, autonomo, indipendente, pro-cinema. Su questo vedere anche se troviamo il modo di trovare delle risorse e tutti i canali che possono esserci da quelli anche politici, unendo anche le forze sia dell'opposizione, attualmente che sia da Palazzo Nuzzi, sia l'amministrazione comunale sensibilizzando la maggiormente, trovando i finanziamenti, tutto ciò che è possibile per far sì che il cinema possa essere ristrutturato e rilanciato per il ruolo che ha sempre avuto. Quindi altre iniziative, altri modi di trovare finanziamenti, stanziamenti per salvare il cinema d'orte, noi faremo tutto quello che è le nostre possibilità. Sul capitolo del cinema il sindaco ha speso delle parole nel discorso dell'ultimo dell'anno, un giudizio politico visto che siete un gruppo politico. Esatto, allora il sindaco ha detto secondo me qualche cosa di inesatto, perché noi infatti sull'ultimo nostro volantino abbiamo anche precisato questa cosa, perché il comune di Orte era stato agevolato, era stato come vogliamo dire, per avere una sovvenzione. Questa sovvenzione non è stata potuta ottenere perché il comune di Orte non aveva alienato i beni della regione. Allora, non è colpa certo di chi gestisce il cinema, se il comune di Orte non era regolare con i bilanci. Quindi non ha potuto attingere i finanziamenti. Non ha potuto attingere i finanziamenti. Adesso il finanziamento lo accettano in modo ridotto perché si sono alienati, perché faranno l'alienazione dei beni e ovviamente sarà dato, ma non sarà più consistente come era prima. Allora, questo discorso il sindaco non lo può riversare addosso a un cittadino che ha subito la crisi che in questo momento c'è in tutto il mondo del cinema. In particolar modo c'è una crisi enorme nel mondo, lo sappiamo benissimo. Il cinema è una delle cose che l'ha subita maggiormente, perché la gente non avendo i soldi ovviamente non va nemmeno al cinema, risparmia anche su questo. Allora, prima di tutti secondo me il comune doveva fare una convenzione, tranquilla, come l'ha fatta per gli impianti sportivi, come l'ha fatta per tutti gli altri. Doveva riversare dei soldi al gestore, il quale gestore poi si sarebbe attivato per acquistare la macchina e per poter mandare avanti un servizio che è un servizio secondo noi essenziale per la cittadinanza. Costruiamo il domani, negli ultimi giorni ha pubblicato una nota dove non mancano critiche al nuovo piano della viabilità. C'è la richiesta di regolamentare l'incrocio di Orte Scalo tra Corso Garibaldi e la via che porta alla stazione e di installare nuova illuminazione nel tratto ancora buio tra Orte e Orte Scalo. La nota poi rileva che sarebbe opportuno ripristinare il marciapiede che esiste lungo via Caperano all'altezza dell'incrocio con via Marzabotto. Costruiamo il domani, si domanda perché è mancata la manutenzione. A Orte non esiste la manutenzione, si legge o per meglio dire si fa solo prima delle elezioni, ovviamente a cura esclusiva di una nota ditta locale. Ora cedo la linea Gianni Di Felice che acconsiglia il primo ospite di oggi, Silvia Lallini, per parlarci di Spartan Race. Parliamo ora di Spartan Race per farci spiegare di che cosa si tratta. È con noi il consigliere Silvia Lallini che si sta occupando di questa cosa. Spartan Race, l'abbiamo un po' annunciato anche nei titoli, nel dettaglio di che cosa si tratta, un evento importante anche per il comune di Orte. Sì, è un evento importante che abbiamo comunque cercato perché è un evento che nasce in America tre anni fa, esattamente in Canada. È una corsa ad ostacoli estrema dove comunque gli ostacoli sono veramente estremi, quindi è una corsa per sportivi. A noi è piaciuta molto l'idea perché comunque il 20% degli iscritti, degli atleti iscritti sono canadesi, irlandesi e francesi. È una corsa che si fa anche in Francia, si fa anche in Irlanda, si fa anche in Svezia e ha avuto sempre notevoli successi. Quindi dopo aver intessuto in questo anno i rapporti con la Reebok, perché comunque lo sponsor ufficiale della Spartan Race è questa grande azienda, la Reebok, siamo riusciti a portarli ad Orte con un grande orgoglio. Loro sono venuti, hanno visto il territorio, l'abbiamo studiato insieme e abbiamo stabilito due percorsi, uno di 5 chilometri, uno di 13 chilometri, all'interno dei quali verranno quindi messi questi ostacoli e quindi la corsa si svolgerà il 25 aprile in un'unica giornata. Ecco, io scusa se ti interrompo, però volevo un po' capire meglio, è un corsa ad ostacoli ma non è l'ostacolo che si vede, qualche volta si vedono anche sulle altre emittenti questi ostacoli che sono magari delle pareti da scalare, dei fossi dove ci sono dei fili spinati, insomma, è questo qui? Gli ostacoli estremi sono questi, innanzitutto vengono costruiti qui ad Orte, quindi comunque ci sarà un'equipe che arriverà 10 giorni prima, si stabilirà qui nella zona artigianale e gli ostacoli verranno costituiti qui. Saranno sicuramente questi, sono dei muri alti di legno dove si dovranno arrampicare e oltrepassare, dove ci sono, verranno messe delle piccole zone d'acqua e fango dove dovranno questi atleti passare all'interno, ci saranno comunque delle funi dove si dovranno arrampicare per prendere comunque il punteggio, insomma, perché comunque va a punteggi. E non è una corsa individuale ma è una corsa collettiva, quindi tutte le persone, diciamo, partiranno in batterie, scaglionate, insomma, ogni 20 minuti circa. Ecco, quindi da quello che stai dicendo, la presenza anche di persone che vengono dall'estero è prevista, quindi bisognerà anche, diciamo, organizzarsi per presentare un po' il meglio di quello che è la nostra città, sotto il punto di vista dell'accoglienza? Assolutamente sì, questo è stato la nostra prerogativa, il fatto di avere ad orte comunque persone, degli stranieri che possono essere americani, canadesi, francesi, irlandesi, questa era stata per noi, insomma, una cosa importante perché ci dava modo di far vedere orte, era un'ottima vetrina, insomma, per far conoscere orte, tra l'altro il percorso che è stato previsto è un percorso che parte sì dalla zona artigianale ma poi va ad arrivare al centro storico e siccome l'indotto è importante perché oltre agli atleti che sono previsti da 500 a 3.000 atleti, manca tutto un indotto perché ognuno si porta poi le famiglie, chiaramente. Certo, quindi parliamo di un movimento grande di persone? Sì, parliamo di un movimento, la RIBOC questo ci garantisce, noi stiamo facendo in modo tale da poter, insomma, avere il maggior numero di iscritti perché più iscritti ci sono, più indotto c'è e più il territorio è conosciuto. Il fatto di poterli portare al centro storico per noi è molto importante perché anche gli stranieri possano visitare il nostro centro storico perché magari ci può essere un ritorno, sicuramente, anche sotto il punto di vista sia economico che anche poi di pubblicità. Questa iniziativa, ecco, come nasce, qual è stato un po' prima, hai detto un po' velocemente, avete come amministrazione comunale cercato l'iniziativa, ci sono stati dei contatti, è stata un'idea, insomma, perché poi voglio dire, è un appuntamento questo che poi va ad avere un bel peso sotto il punto di vista dell'impatto. Io l'avevo visto, ne avevo sentito parlare, una mia amica che l'ha fatta in America e mi era piaciuta molto l'idea, quando poi mano a mano iniziando a parlare ho capito dell'importanza della corsa e, diciamo, il flusso di gente che poteva portare, mi sono sempre, insomma, più appassionata. Noi eravamo, i comuni candidati nel Lazio, sono due le corse che vengono fatte in Italia quest'anno, una a Milano ed una ad Orte e noi eravamo candidati con Roma Capannelle, quindi comunque ci siamo impegnati a mostrare il territorio, a far vedere comunque tutte le bellezze che aveva Orte, non per ultimo Orte Sotterranea, cercando chiaramente di invogliarli. Quando loro sono venuti, quando i responsabili della Riboc sono venuti qui, abbiamo insieme al vice sindaco fatto vedere il territorio perché lui comunque a me ha aiutato perché avevo bisogno, anche come una persona nuova, insomma, di avere un supporto, perché comunque per me era comunque una novità, al di là del mio interesse, però in fondo poi c'è bisogno anche di esperienza, soprattutto di conoscere bene il territorio, cosa che io onestamente alcune zone di Orte, lo dico con molta umiltà, non le avevo mai, mai viste. E quel giorno quindi con loro abbiamo fatto tutto questo. Quindi ho capito, secondo me c'era un forte ritorno per Orte, quindi abbiamo iniziato… Ecco, ma queste persone che saranno qui nel nostro comune, la giornata è il 25 aprile, quindi un giorno festivo, ma ovviamente ci sarà poi un prima e un dopo da organizzare, quindi ci sarà movimento per quei giorni nella nostra città, sotto il punto di vista anche della recettività nel far mangiare le persone, nel farle dormire, ci sarà anche una sinergia con i comuni vicini perché si parla di più di 3.000 persone, le nostre strutture non sono in grado di soddisfare un così alto numero, quindi c'è già un progetto di coordinamento con anche gli altri. Sì, noi adesso ci stiamo impegnando innanzitutto, la prima cosa che faremo è chiaramente fare una riunione con le attività produttive, con tutti i commercianti, di Orte, perché insieme possiamo comunque programmare l'evento. Poi l'altra intenzione chiaramente era quella nostra, adesso i responsabili della Reebok sono in America, perché c'è questa corsa in Canada adesso. Appena torneranno la prossima settimana avremo un incontro all'interno del quale noi avevamo l'intenzione di proporre il pacchetto Orte nel momento dell'iscrizione, perché questo garantiva chiaramente far lavorare le persone in primis di Orte, quindi tutte le attività ricettive, tutti i ristoranti, gli alberghi, il bed and breakfast, cioè cercare di coinvolgere il più possibile, perché il nostro intento è di farli rimanere qui e se devono rimanere qui. Poi chiaramente tutto quello che è fuori dalla nostra portata sarà sicuramente canalizzato nei comuni limitrofi. Certo. Bene, allora noi aspettiamo con ansia questa data, anche perché poi ovviamente ci ritorneremo sopra anche per fare degli step di aggiornamento che saranno necessari, anche e soprattutto agli operatori che sicuramente non possono farsi sfuggire un'occasione sia di promozione propria, ma anche del territorio. Quindi io ringrazio Silvia Lalini di aver informato i cittadini di questa importante manifestazione, due tappe in Italia, Milano e Torte, insomma mi pare che ci sia da essere soddisfatti per quanto riguarda la nostra città. Grazie ancora Silvia Lalini e Lalini torna a Francesca Maccaglia. Vedere la cultura e il turismo come due facce della stessa medaglia capaci di essere dei grandi moltiplicatori di ricchezza. Sviluppare un racconto istituzionale del territorio coinvolgendo la popolazione attraverso incontri appositi, puntare ad un'accoglienza diffusa che coinvolga tutti i cittadini e fare dei turisti che visitano la Tuscia dei cittadini temporanei. Sono stati questi i temi che si sono sviluppati nel convegno Prospettive per il Turismo Rurale tenutosi ad Orte lo scorso sabato. Apriamo ora la pagina di cronaca. Condannato a tre anni per aver rubato rame alle ferrovie. La sentenza esemplare è stata combinata dal Tribunale di Viterbo. I latri erano stati arrestati poco prima di Natale vicino alla stazione di Orte e sempre i carabinieri di Orte hanno denunciato due persone per concorso in furto aggravato. Un uomo e una donna di origine rumene, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati fermati dopo aver ragginato due donne, una di Bassano in Teverina e l'altra di Vasanello. I due attraverso un inganno hanno derubato le donne del danaro che custodivano nelle proprie borse. Cedo nuovamente la linea Gianni Di Felice che ha con sé il secondo ospite di oggi. Ed eccoci con Angelo Giuliani, nostro ospite che torna dopo qualche tempo. Ci eravamo visti nel 2014, siamo nel nuovo anno e ci sono argomenti nuovi. Come è naturale che ci siano, soprattutto in questi ultimi giorni, se ne sono sviluppati diversi. Noi abbiamo aperto il nostro notiziario con la notizia delle dimissioni dell'assessore Corradi. Un tuo commento su questa vicenda? Per incominciare, poi abbiamo altre cose. Innanzitutto rivolgo un augurio di buon anno anche se posticipato a tutti i cittadini di Orte per il fatto che è la prima volta che compariamo in televisione dopo diverso tempo. e riguardo a questa domanda io... Un commento, insomma, visto che ancora il fatto è accaduto ieri, quindi una tua valutazione più che altro. Ma la mia valutazione è che innanzitutto è una persona che ritengo estremamente valida. Sotto questo punto di vista non può che dispiacermi se il Consiglio Comunale comunque perde quantomeno un apporto di esperienza dovuto al fatto che lei era già ricoperto in passato dagli incarichi amministrativi. Non ne conosco le ragioni personali che l'hanno indotta a questo tipo di scelta. Mi auguro che siano ragioni positive per lei, per la sua gradiera, per la sua famiglia e quindi rispetto a ogni sua decisione. Colgo però l'occasione con questo presupposto, con questa novità che si è creata, di auspicare che al momento della, in qualche modo, ricomposizione della struttura amministrativa, degli incarichi amministrativi, questa maggioranza che sta andando sempre più allo sbando, sempre più allo sbaraglio, senza una struttura programmatica valida per Orte e per gli Ortani, rifletta sulla possibilità di doversi confrontare in modo più concreto, in modo più approfondito con le minoranze, per trovare degli spunti e delle soluzioni programmatiche che diano un nuovo impulso all'azione amministrativa medesima, sia a partire dagli organigrami, ma soprattutto a partire ed approfondire dai contenuti che dovranno essere affrontati da qui al prossimo futuro. Ecco, questo è un tuo auspicio ovviamente. Poi sui temi che sono invece caldi degli ultimi giorni. Parliamo del cinema Alberini e della viabilità. Sono un po' questi due argomenti che sono all'attualità più salienti. Il sabato scorso c'è stata una manifestazione, c'eravamo anche noi, abbiamo un po' documentato, ho fatto anche delle interviste su dei commenti che ci sono, insomma, che sono stati espressi dai presenti. C'è stato ovviamente anche il messaggio di fine anno del Sindaco che ha toccato questo punto e ha detto la sua opinione, ribatita nella sua presenza all'incontro. Poi c'è stato il confronto, il gestore ha ribatito la sua opinione, c'è stato un confronto, uno scambio di opinioni, però di fatto ognuno è rimasto sulle sue convinzioni. Che cosa ne pensi? Ecco, anche su questo io tengo a precisare una cosa. Ci sono modi e modi di fare politica amministrativa. Noi non condividiamo la politica amministrativa dell'attuale maggioranza che è finalizzata solo ed esclusivamente ad un approccio, per così dire, arido, non sentimentale di questa vicenda. Il cinema Alberini rappresenta una tradizione culturale, rappresenta una tradizione nostra, storica, personale, familiare, sociale di tutti i cittadini di Orte. Perché chi più meno? Sin da piccoli abbiamo frequentato quei luoghi, siamo andati al cinema lì, siamo andati alle feste da ballo, siamo andati alle feste di ragioneria. Adesso abbiamo accompagnato i figli, accompagneremo i nipoti. Cioè è un'evoluzione di una realtà che probabilmente è una delle più radicate nel nostro territorio e nella nostra storia di Orte, almeno sotto un profilo contemporaneo. Quindi voler adesso distinguere o disgiungere la realtà dell'Alberini con la famiglia Gioacchini, secondo me è un grosso errore. C'è una situazione di difficoltà, di crisi del cinema che attraversano tutti, non solo loro. Quindi se noi possiamo come collettività, come amministrazione stessa, dare un'aiuto a quella famiglia non significa favorire nessuno, ma dare un esempio, ma significa dare l'esempio di poter ridare delle possibilità a chi nel nostro territorio, di fronte a una situazione di crisi, di difficoltà economica, si sono dovuti fermare. Quindi noi dobbiamo dare un senso di ripartenza, un senso di aiuto, un senso di solidarietà a tutti quanti per dire, guardate, se c'è una difficoltà l'amministrazione è presente e aiuta i propri cittadini. Se c'è una difficoltà troviamo tutti insieme le soluzioni per migliorare questo stato di cose e diamo le chance a tutti quanti per poter ripartire. In questa ottica io credo che è bello, che è positivo, che si stia creando un comitato per creare le condizioni economiche di far riacquisire all'attuale gestore una macchina digitale per poter ripartire con le programmazioni e con le proiezioni. Il discorso eventuale ulteriore della ristrutturazione della struttura è una cosa a parte, ma noi lotteremo fino alla fine affinché Leonardo e la sua famiglia rimanca lì dentro anche dopo la ristrutturazione e possa trovare la sua autoaffermazione nella prosecuzione dell'attività che è finora sempre espletata. Ecco, ha detto poco fa che il cinema subirà una ristrutturazione, sperando, incrociamolo dita, lo diciamo, da cittadini ortani che venga ristrutturato in modo che la struttura sia migliorata nei suoi aspetti. Io non ho visto il progetto, non credo che ancora sia in elaborazione da parte dell'ufficio tecnico, non so come verrà strutturato, ma non credo io che sia prevista poi un'abitazione all'interno del cinema alberini, quindi bisognerà trovare anche una soluzione per dare una giusta e degna sistemazione alla famiglia. Io credo che una volta tenuto fermo il fatto che Leonardo possa proseguire nella propria attività con l'alberini, con l'alberini ristrutturato, credo che vada da sé che poi altre soluzioni che debbano essere, altre situazioni che debbano essere risolte, possono trovare la loro soluzione nel diavolo e nel confronto proprio con l'amministrazione. Siete che ho parlato pubblicamente all'incontro di un bando, bisognerà fare un bando, questo bando come lo vedi dovrà essere fatto secondo te? Anche qui è una cosa un pochino problematica, perché non è detto che ci sia la necessità di fare un bando dal momento che esiste una convenzione, a mio modo di vedere, tuttora valida ed in essere con la famiglia Gioacchini, quindi se per caso quel tipo di convenzione ha tuttora una sua validità giuridica, ovviamente si tratterà di una prosecuzione nella gestione dell'attività per cui il bando secondo me diventerebbe del tutto superfluo se non inutile. Vabbè, quindi poi vedremo quello che succederà, ovviamente questo è l'auspicio di tutti i cittadini che torni il cinema d'orte, che torni anche il teatro e che ovviamente venga data giusta sistemazione, una famiglia che per tanti anni ha avuto l'onere di portare avanti questa attività. Esatto, perché non ci dimentichiamo le difficoltà con cui... Per carità, poi tutte le soluzioni possono essere trovate, ma ci vuole la buona volontà da parte di tutti, io credo, su questa vicenda. Noi ce la metteremo tutta per aiutare. Deve essere secondo me una vicenda trasversale che non deve scendere nella politica vera e propria, voglio dire, non bisogna essere settoriali e inquadrati, ma trovare una soluzione condivisa e accettata da tutti. No, no, assolutamente, la politica non c'entra niente, perché la cultura è di tutti i cittadini. Anche il cinema è di tutti, quindi che si cerchi una soluzione condivisa da parte di tutti, ovviamente sempre poi nel rispetto dei regoli, della legge, questo mi sembra ovviamente scontato. Pienamente d'accordo. Parliamo adesso di viabilità. In questi giorni sul sito online del Comune è stato pubblicato il piano della prossima viabilità. Il Sindaco ha detto anche nel discorso di fine anno che sarà un piano che potrà essere migliorato, è un piano aperto, probabilmente tutte le cose non andranno bene, siamo disposti a migliorarle. Che cosa ne pensi su questo piano che sicuramente cambia poi le abitudini e i modi di circolare dei veicoli all'interno del nostro Comune? Secondo me anche questo aspetto della viabilità è un ulteriore elemento che è stato messo lì dall'amministrazione quasi a riempire un vuoto di governo che si stava un pochino allargando in mezzo. Aspetta, vabbè. Ti ho fatto una domanda. Secondo me anche questi provvedimenti della viabilità fatti in modo così estemporaneo sembrano quasi un palliativo a riempire un vuoto di governo di questa amministrazione, più che non raggiungere l'effetto sperato. Perché sono state poste in essere delle misure che poi non risolvono la viabilità della torte. Anzi, probabilmente qualche soluzione la complica pure. Il vero problema di tutta questa vicenda è che a mio modo di vedere questo approccio, anche in questo caso, questo metodo posto dall'alto, imposto dall'alto, certe soluzioni che non sono discusse né nelle commissioni né tantomeno nei quartieri coraggente, poi creano una forma di insofferenza per cui si crea questo sfilacciamento, questo distacco. Quindi invidi un po' a un confronto, a dei passaggi anche con i cittadini per sapere cosa ne pensano. Esatto, vi faccio un paragone così, tanto per dare la sensazione. A torte scalo, a differenza che in tutti i comuni d'Italia, in tutte le città d'Italia, se uno lascia la macchina per pochi secondi lungo corso Caribaldi, non viene nemmeno più fischiato dal vigile, il vigile fa il fischio d'avvertimento, dopodiché se passa un determinato periodo fa la multa e leva la sanzione. A torte scalo non succede più neanche questo, se una persona lascia la macchina anche per pochi secondi lungo corso Caribaldi viene immediatamente sanzionato. Noi abbiamo visto, e non è un facile parallelo, se noi vediamo che ci sono le macchine degli amministratori nei parcheggi, in posti non consentiti e senza il biglietto, voi capite che tipo di valutazione fa l'opinione pubblica nei confronti di questi tipi di comportamenti che sono poi poco coerenti, che non sono spiegati, non sono recepiti i dati, cioè i commercianti di Orte Scalo considerano questo tipo di atteggiamento, questa gestione del traffico, una pugnalata sulla schiena, così come poi è stata a sua volta una pugnalata sulla schiena l'ipotesi di creare un termine a debus al di là del parcheggio di Molignano, perché significa ribaltare tutte le utenze, tutti i potenziali clienti dei commercianti di Orte Scalo in una zona dove poi sono poco incentivati a regarsi per poter comprare e fare degli acquisti insomma. E quindi disincentiva pure la pratica e la… Ecco, quindi voi che proponete un confronto? Noi chiediamo un confronto. Chiedete un confronto? Sì, noi chiediamo un confronto innanzitutto in commissione, ma soprattutto chiediamo anche un confronto con tutte le realtà imprenditoriali, commerciali, soprattutto di Orte Scalo e chiediamo immediatamente che venga poi posta in essere… Il piano è aperto, quindi siamo disposti a migliorie e suggerimenti. Vabbè, però prima si trova la soluzione e poi la applica, sì, ma si applica una soluzione e poi la miglioriamo, perché questo crea una forma di confusione che non è bene per nessuno né tantomeno per la cittadinanza. Quindi apertura per trovare una soluzione condivisa, questo mi sembra di aver capito. Beh, quantomeno se parliamo di viabilità parliamo di una problematica che poi non è secondaria, perché la viabilità in sé, al di là del deflusso, della gestione dei parcheggi, poi incide sull'economia interna di un centro abitato, perché volente o non lente se uno non si ferma più all'interno di Orte Scalo significa che poi i commercianti ne risentono, perché vada un'altra parte. Se nel centro storico noi non creiamo le condizioni, anche razionalizzando il sistema dei parcheggi, per poter favorire i commercianti del centro storico, non attiriamo le persone, noi creiamo una situazione di depressione e questa situazione di depressione crea il malcontento, crea la protesta e in qualche modo poi c'è un disagio sociale e economico che poi viene Volevo concludere con te questo incontro parlando di un altro argomento che è ancora in piedi, è quello degli impianti sportivi. Si sta andando avanti, o meglio si è fermi, perché c'era quella situazione di rivolgere all'anticorruzione un parere, però si è fermi ancora lì, quindi che cosa succede ancora, secondo te? Il Comune ha chiesto all'anticorruzione, all'ANAC, un parere sul bando che era stato fatto, viste poi le contestazioni che c'erano state, quindi si è ancora in attesa di questa decisione da parte dell'ANAC? Io credo che loro stiano aspettando dall'ANAC un parere preventivo sulla legittimità o meno delle scelte che hanno fatto, però anche questo io non lo dico perché devo criticare per forza, però scusazione obbedita, accusazione manifesta, se la procedura è legittima, che motivo c'è di rivolgersi all'autorità nazionale anticorruzione per verificarne la legittimità? Se uno è consapevole di aver fatto bene, non credo che abbia la necessità di andare a chiedere ad un organo terzo se la cosa è positiva, è corretta oppure meno, il problema è che quel tipo di gestione è sbagliata dall'inizio, il modo con cui si è voluto procedere per dare in gestione gli impianti sportivi è stata una procedura del tutto illegittima, che poi si è voluto creare lì sopra dei pagliativi, degli interventi ulteriori, questo secondo me non ha migliorato la situazione, non ha sanato l'illegittimità, ma ha creato ancora più confusione se non addirittura qualche equivoco, non mi risulta tra l'altro che anche la procura Viterbo si stia occupando di questa vicenda, sarebbe stato meglio a mio modo di vedere, come ho già detto altre volte in televisione, in consiglio comunale, come abbiamo avuto modo poi di confrontarci privatamente, di dire guardate, una procedura se si sbaglia basta, si annulla, si rifà la gara, vediamo in che modo, è ovvio che diventa problematico pensare di poter dare in gestione degli impianti sportivi con un semplice bandino scritto di quattro righe a fronte del fatto che ci sono delle strutture degli impianti che a tutt'oggi ci sono non accadastate, non hanno le agibilità e sui quali non ci sono nemmeno i piani di sicurezza, ma com'è possibile che un privato, società, polisportivo o quant'altro possa prendere in gestione una situazione di questo tipo e poter essere tranquillo di poter farla frequentare da bambini o da chiunque altro possa fare agonismo in quelle strutture ed essere tranquillo. Secondo me l'obbligo del comune sarebbe stato quello di esternare immediatamente, pubblicizzare immediatamente le cose che dovevano essere fatte, dovevano essere migliorate per garantire poi un'offerta finalizzata quantomeno alla regolarizzazione degli impianti. Questo a tutt'oggi non è accaduto, io mi auguro che anche sotto questo profilo l'amministrazione assuma una scelta coraggiosa, annulli questa procedura e rimetta in gara, in bando, un affidamento della gestione degli impianti, tenendo presente delle vere, delle attuali situazioni di miglioramento che devono essere affrontate. Grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Il nostro DG continua. Si è conclusa da poco in Piazza della Libertà la benedizione degli animali in occasione della festività di Sant'Antonio Abate. Molti i presenti con i loro piccoli amici, tanti i bambini, cani e gatti ovviamente sono stati i più numerosi. Benedizione che verrà effettuata anche domenica mattina nel quartiere di Petignano al termine della messa. E domenica 18 gennaio alle ore 15 nei locali del Palazzo Vescovile iniziano le prove per poter partecipare allo spettacolo previsto per la festa della mamma. Tutti coloro che hanno un'età compresa fra i 6 e gli 11 anni e vogliono divertirsi possono presentarsi con i genitori e far parte del cast dello spettacolo. Prepariamo il nostro matrimonio. È la consueta iniziativa annuale che ogni anno viene tenuta presso i locali della parrocchia di Orte Scalo per preparare le giovane coppie al sacramento del matrimonio. Il primo incontro si terrà venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 21 presso i locali della parrocchia di Orte Scalo. Ed è tutto per questo numero del TG Magazine. Vi ricordo che potete rivederlo in replica ai consueti orari su TRO e TRO2 e nel sito internet teleorte.it. A seguire vi ricordo l'appuntamento con la trasmissione Fatti e Commenti condotta da Stefano Stefanini e Gaetano Alaimo. Ed è tutto per questo numero del TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo. Grazie per l'aspetta. Grazie per l'aspetta. Grazie.